Il giorno non è niente senza la luce Un amore vissuto, le malinconie che il protagonista conserva dentro di sé raccontando un tempo che si ferma quasi in un limbo. E questo è Il giorno, il nuovo single al quale fa da corredo un videoclip della band siciliana Jack e The Starlighters. Dove il tempo? Il tempo si ferma in un limbo e si fermava negli anni 60, anno in cui è stato scritto il brano che poi è rimasto nel cassetto per tutto questo tempo e l'abbiamo creato e rimesso in gioco noi e ovviamente si ferma anche oggi. Quindi questo contesto di limbo è un po' inteso come la vita dei social che spesso viene vista in maniera negativa e invece potrebbe avere degli aspetti positivi, per esempio le lunghe distanze che vengono interrotte da un social che ti permette di fare delle videochiamate o delle robe di questo tipo. Questo ovviamente nell'ordine del senso del brano ti fa capire che un anno è passato ma magari potrebbe essere un anno a scopo lavorativo, non per forza la separazione di una coppia. Quindi il desiderio dell'unione che in questi tempi è importantissimo. Che sonorità avete scelto per questo brano? Abbiamo voluto come di consueto di Jack and the Starlighters, da parte di Jack and the Starlighters, utilizzare un sound profondamente anni 60 con uno sguardo a quello che è il 2023, quindi delle sonorità vintage però con dei mix che sono più attuali. C'è un album di prossima uscita? Sì, ci sarà un album di prossima uscita e ci saranno anche dei singoli. Sì, ci sarà un album di prossima uscita.